Il consiglio della redazione di quest'oggi è la Bibbia dei Villani, l'autore e il premio Nobel Dario Fo. Buonasera e ben trovato. Allora, il... Diamo anche la mano. Ma certo, ma ci mancherebbe, io poi sono molto onorato. Mi farebbe piacere attraverso di lei riuscire la nostra trasmissione dedicata ai giovani, ai giovani che molto probabilmente si dice non leggano spesso, non sappiano nemmeno scrivere. Invece da parte sua volevo sapere che cosa ne pensa lei dei giovani. Ma non si può fare così la mappata totale. A parte che ho sempre il terrore delle percentuali, delle inchieste, molte volte appaiono false. Io incontro spesso dei giovani che mi mettono a disagio proprio per il discorso opposto, per l'impegno, per gli interessi che dimostrano. Sì, poi ci sono anche quelli un po' sciocchi, ma c'erano anche i miei tempi, i tempi di mio padre, di mio nonno, le differenze di partecipazione, di interesse, il capire l'importanza della cultura, del realizzare non soltanto per sé, ma anche con gli altri e per gli altri, sono di tutti i tempi e di tutte le epoche. Diciamo che in questo momento c'è un potere che si interessa profondamente a distruggere la conoscenza, l'informazione, il sapere. Il disinformare la gente è il primo impegno che si mette a capo di un programma, purtroppo. Aver vinto il Nobel, nei confronti di chi arriva dopo, anche da un punto di vista, come dire, artistico, comporta qualche responsabilità? Se mi volete dare anche una responsabilità per aver vinto il Nobel, non lo so. Non ho mai pensato in questo senso, cioè che la mia responsabilità nasca dal premio che ho ricevuto. La responsabilità ce l'ho da sempre, da quando ho cominciato a fare il teatro e ho preso certi temi, ho smesso di occuparmi di un teatro legato a una certa cerchia di persone, di interessi, diciamo quello convenzionale, sono uscito dalla normalità, mi sono ritrovato con maggiori difficoltà di quelle che avevo prima, però mi sono riuscito a rinnovare e soprattutto a insegnare qualcosa, soprattutto a quelli che cominciavano questo mestiere, i giovani. La Bibbia dei Villani, parliamo un po' di questa nuova pubblicazione. Che cosa ha deciso di raccontare questa volta? Prima di tutto riprendere un discorso che è quello del mistero buffo, è che quello che si preoccupa di cancellare completamente l'idea da parte del potere, l'idea di un'esistenza culturale delle classi inferiori. E io, con tanti altri, non sono da solo, meno male, siamo riusciti a far capire, dimostrare, che esiste una straordinaria cultura che viene da lontano, proprio delle classi sottomesse, delle classi umiliate, mortificate, di quelli che normalmente si mettono con disprezzo a lato. Però non basta dire che esiste, bisogna dimostrarlo, dimostrarlo e ricercarlo, recitarlo, metterlo in scena, metterlo nella posizione di essere usato, soprattutto dalle nuove generazioni. Prima parlava durante la conferenza del fatto che lei ha studiato da architetto. Le sue storie, le sue commedie, sono mai nate in una maniera architettonica, con delle forme architettoniche? Ma la dimensione, lo dicevo, che per me la geometria, l'idea dello svolgimento metafisico delle cose, delle storie, il rapporto di dimensione e soprattutto di lettura, da un punto di vista della chiave geometrica e proiettiva, l'ho ripetuto due o tre volte, delle cose, è fondamentale, cioè imparare a rovesciare il luogo comune. E questo mi è venuto proprio dall'aver studiato la geometria analitica e proiettiva. Infine, qual è il libro che le ha cambiato la vita? Qual è il libro che le ha fatto conoscere il mondo in una maniera... Se io avessi tutto risolto con un libro solo saremmo disgraziato. I libri ne ho letti a caterve, come tutti quelli che fanno il mio mestiere, non sono mica l'unico. E ci sono, dico, tutto il periodo del rinnovamento culturale francese dal Settecento a venire all'Ottocento, la satira degli inglesi, gli spagnoli, non parliamo poi che cosa ho imparato dagli italiani, tutti i grandi scrittori, i narratori, a partire dall'alto medioevo, a venire su fino ai nostri tempi. Non posso dire qual è il libro che mi ha... Sono talmente tanti e talmente importanti uno presso l'altro che non me la sento di fare i distinguo. Sarei un povero se avessi la possibilità di fare l'elenco dei libri. Grazie a Dario Foi. Il consiglio della redazione di quest'oggi è La Bibbia dei Villani, con 68 disegni dell'autore e naturalmente l'immancabile presenza di Franca Rame. Edito da Guanda Edizioni, era il consiglio della redazione di quest'oggi. a se iscrivendo. Grazie a Dario Fai. Grazie a Dario Fai.